Come vedete un po' tutti stiamo dicendo la stessa cosa, che si è creata una famiglia, che si sono create delle amicizie bellissime, posso confermarlo, non solo sul set, anche mentre tornavo in hotel la sera e diciamo non è che ci rispargavamo nel passare tempo insieme e nel condividere tante esperienze. Quello che posso dire è che io sono molto grato alla Disney, sto molto grato alla Disney e per questa opportunità incredibile che mi hanno dato e che ci hanno dato anche qui dell'Italia e sono molto molto grato di aver conosciuto queste bellissime persone perché credo che questo sia il successo di Tini, di Violetta e di tutti loro, proprio la condivisione di valori molto importanti che sono stati apprezzati e visti tutto il mondo. E posso concludere dicendo che è sempre stata una cosa che ho pensato, la Disney un po' ti fa vivere le favole, vi sono tutti felici e contenti, vi posso assicurare che fare questo film è stato veramente come vivere una favola perché ti trattano come dei principi e delle principese e quindi sono veramente molto grato, molto contento e faccio fatica ancora a crederci, sono sincero di esserci dentro. Grazie mille a tutti.